Nella mattinata del 15 giugno presso il centro di urno di Isola dell'Iri si è svolta l'iniziativa Isola Danzante, saggio finale del progetto Danza Movimento Terapia del centro di urno che ha portato in scena lo spettacolo musicale Gris, grazie alla collaborazione con Zurra Cianfarani ed il centro ASD Danza Più di Sora. Gli ospiti delle comunità terapeutiche dei centri di urni hanno dato prova di quanto ha imparato durante le lezioni di ballo anche con il maestro Andrea Pizzuti. Presenti per portare la loro vicinanza e di saluti istituzionali, il direttore generale dell'ASD Frosinate Angelo Aliquò, il direttore del Dipartimento di Salute Mentale delle Dipendenze Patologiche Filippo Morabito, con il primo cittadino Massimiliano Quadrini. Fondamentalmente i ragazzi sono contenti di fare quello che stanno facendo e ho visto tanta gioia anche in coloro che collaborano con i ragazzi, anche i volontari, non soltanto gli operatori sanitari. E questo dà un po' il senso del lavoro che si fa. Quindi è un'esperienza sicuramente positiva che ci dà appunto un momento di riflessione su quello che abbiamo fatto e su quello che dovremo ancora fare perché sono tante le cose che si devono fare. Però già questo è un risultato, sentire l'inclusività, sentire la collaborazione, sentire anche chi è curato partecipe della vita di tutti i giorni e farlo sentire appunto una parte comunque importante. È stato poi presentato il progetto Circuito ASL Solidale, promosso dal Comitato Provinciale dell'Unicef rappresentato da Angelica Spalvieri, che vede la collaborazione permanente tra Unicef ed ASL nel progetto di realizzazione delle pigotte. Un giorno importante oggi perché a Isola dell'Iria, al centro di Urno, presentiamo un progetto interessante e nuovo dove appunto ci sarà ancora il coinvolgimento di tutte le strutture che hanno già partecipato al laboratorio lo scorso anno. Il progetto che si chiama Circuito ASL Solidale prevede appunto un laboratorio permanente all'interno delle strutture del Circuito ASL e la distribuzione o meglio la possibilità di adozione nei reparti delle pigotte, quindi di queste pigotte solidali, che saranno realizzate dagli utenti dei centri, dei centri di urni e delle comunità terapeutiche. Il progetto Circuito ASL Solidale quindi prevede la realizzazione delle pigotte all'interno dei centri di urni e delle comunità terapeutiche ASL e poi la possibilità di inserimento all'interno dei vari reparti e anche dei consultori delle pigotte solidali e con questo progetto appunto che si chiamerà Adotta una pigotta in reparto. Un ringraziamento ovviamente va al direttore generale Alicuo e al direttore Morabito che hanno appunto accolto con estremo entusiasmo questo progetto in maniera appunto come dicevo prima permanente e hanno dato la possibilità all'Unicef di entrare anche nei reparti con le pigotte. Progetto che è partito l'anno scorso e siamo stati felici di accogliere l'invito da parte dell'Unicef affinché poi venissero realizzate le pigotte all'interno dei servizi residenziali e semi residenziali del Dipartimento di Salute Mentale. È un progetto che ha una sua dimensione a parte fattiva nella quotidianità, nella realizzazione proprio della bambola ma è anche e soprattutto un progetto che si basa sulla relazione, cioè mettere insieme persone che insieme possono avere un obiettivo che è stato un obiettivo stimolante per le persone che stanno nei nostri servizi, hanno dato la possibilità di sperimentarsi sia personalmente sia come gruppo e soprattutto di avere come ritorno l'idea e la loro operatività quotidiana ha un ritorno che è un ritorno legato al fatto che la bambolina che loro realizzano è qualcosa che farà del bene a dei bambini nel mondo. Sì, non potevo non esserci perché le istituzioni dovrebbero essere molto vicini a queste associazioni. Io voglio permettetemi di ringraziare Angelica Spalvieri che fa parte del Comitato Provinciale dell'Unicef che ha già fatto diversi progetti non solo nel centro di urno ma proprio vicino alle persone che hanno delle difficoltà e quindi sono progetti che vanno supportati, vanno tutelati e bisogna stare vicino a queste persone che tanto danno anche a noi stessi perché mi accorgo quanto queste persone possono darci e quindi il nostro obiettivo deve essere quello di fare in modo che si indichero nella società come persone normali quali sono e quindi per me è fondamentale oggi stare qui e portare loro un saluto e un supporto.